La città, il comune di Torre Annunziata è stata subito favorevole a questa iniziativa e abbiamo appunto voluto inserirla all'interno di questa nostra festa che si svilupperà su quattro giorni all'interno del porto di Torre Annunziata, una serie di eccellenze del territorio della regione Campania ed è chiaro che anche questo primato per noi vuole significare appunto dare una mano all'associazione per raggiungere questo importante primato, quindi questo Guinness dei record. Siamo convinti che la città di Torre in questo modo può offrire anche una visione di quelle che sono le potenzialità di sviluppo che ci sono e grazie quindi agli sponsor dell'associazione che hanno pensato a noi per questo tipo di iniziativa.